Ciao ragazzi bentornati Seconda settimana del Raffaele Zaini 40 Weeks Rudiments Challenge Il nome che è più difficile del rudimento Questo è il riassunto della seconda settimana Quindi doppi colpi Vedrete ora tutti i video che ho messo ogni giorno su Instagram Tra l'altro vi consiglio di andare a vedere Perché ogni giorno ho posto il rudimento Orchestrato in maniera diversa Una cosa molto importante sui doppi colpi E sui rudimenti in generale Se volete sentire come è il suono rudimento E da subito avere un'idea di un suono interessante Semplicemente invece di farlo su una superficie Fatelo su due Doppi colpi fatelo sul charles Suone sul timpano Il paradido sul charles Suone sul ride Qualunque rudimento Se lo dividete in due superfici Avrete un suono nuovo Un suono interessante E anche qua potrei chiedervi 50 euro su Paypal Ma non ve lo faccio Perché se sei arrivato fino adesso Magari sui da 20 anni E non hai mai capito questa cosa Forse avresti dovuto considerare Di andare a lezione da un maestro Invece di chiedere consigli A tuo cugino Tonio Scherzi a parte Questi rudimenti vogliono essere Comunque uno stimolo Ripeto i rudimenti Non li ho di certo inventati io Queste qua sono le mie orchestrazioni Studiale Portale al tuo maestro Pratica E se io ti ho ispirato Ad avere curiosità sui rudimenti O a studiarli Sono stra felice Cherezi a parte Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.